I sei nazioni torna allo Stadio Olimpico di Roma. L'Italia del rugby sfida le migliori nazionali europee nel più grande torneo del mondo. Due incontri da non perdere. Due giornate di sport, spettacolo e divertimento per tutta la famiglia. 14 febbraio Italia-Inghilterra. 27 febbraio Italia-Scozia. I sei nazioni di rugby vi aspetta allo Stadio Olimpico. Info biglietti www.ticketone.it